Però ci sono tanti problemi nei servizi di Dino, proprio da un punto di vista giornalistico, perché è vero che loro fanno infotainment, però è anche vero che stanno facendo un'inchiesta giornalistica e quindi la devono fare con tutti i crismi. Quando Dino dice che non abbiamo ricevuto querelle, è grazie che non avete ricevuto querelle, i nomi non li avete fatti voi, il nome non li avete fatto voi. Tu hai fatto un'inchiesta bella, articolata, seria, solida, perché io credo che le testimonianze delle ragazze siano molto attendibili, collimano, ci sono tanti elementi che mi fanno pensare che siano credibili. Però non hai fatto il nome. Sì, dopo ti lascio rispondere. Però questo non è un piccolo particolare, Dino, perché non fare il nome, cioè lasciare che una ragazza pixelata dica quelle cose, ma dando una serie di indizi che riconducono con grande precisione a una persona, è, eh sì, eh sì, Dino, con grande precisione a una persona, beh, regista, romano. Perché ricordiamolo, no, per chi si è perso i passati, noi abbiamo fatto vedere il servizio finale in cui viene fatto il nome, ma quel servizio è presciuto da dei servizi in cui il nome non si fa, ma ci sono degli indizi, no, a questo si riferisce selvaggia. Scusate, poi dopo ti faccio parlare anche per un'ora. Avremo tempo. Sono tanti i servizi, sono tanti, un'ora forse, sono tanti i servizi in cui con un fare sadico, io posso dirti da casa, sadico, no, sadico, ti dico la verità, che non ha nulla a che fare con il giornalismo, in ogni puntata veniva dato un indizio in più. Allora, prima la descrizione della casa, e tu sai benissimo, Dino, che era una casa molto particolare, perché se tu mi parli di un loft con una jacuzzi, tutti quelli dell'ambiente che conoscono Fausto Brizzi, dopo dieci minuti hanno capito di chi stavi parlando. Mi sembra che dell'oft se non si è parlato dopo. No, infatti ho detto che ogni puntata veniva dato il servizio. Nello stesso servizio in cui si sono fatti i nomi, quindi al settimo. Ok, e dopo di che, ok, scusami, allora, scusami, regista ultra quarantenne, neanche quarantenne, ultra quarantenne. C'è Carone, c'è Moccia, c'è, ti faccio tutti i nomi dei registi di quell'età, infatti mi dispiace semmai il contrario, perché qualcuno abbia pensato che fosse Moccia. Dino, ascoltami, io dopo circa, poi ci siamo mandati anche dei messaggi, perché io ti ho scritto che non mi piaceva questo modo di leggere. di fare, ecco, io, il primo messaggio che ti ho mandato, che nome ho scritto? Brizzi. Allora, io voglio dirti questo, è evidente che nell'ambiente, no, no, è evidente che nell'ambiente, tutti ci siamo detti è Fausto Brizzi. Ora, sinceramente, tenere sulla graticola una persona per 4-5 settimane, secondo me è una gogna, questa è la vera gogna. Cioè, secondo l'errore è stato non fare subito il nome? No, l'errore è grave, ma anche perché se tu non fai subito il nome... Se il nome fosse stato fatto dalla prima volta, tu non avresti avuto niente a credire sull'inchiesta. No, io l'avessi visto, le facce delle ragazze... Quindi è stato uno stilicidio, anche la faccia delle ragazze, come dice Dino... Però scusate, scusate, no, mi inserisco anch'io, se vi dispiace. Spesso, diciamo, l'anonimato viene usato nelle inchieste giornalistiche, perché le persone, quando denunciano a volte, hanno paura o hanno problemi a potersi mostrare. Fausto Brizzi, chi denuncia? Perché Fausto Brizzi deve essere messo in condizione di difendersi. Tu mi vieni a dire, Fausto Brizzi mi può telefonare, ma Fausto Brizzi è accusato di stupro. No, non è accusato di stupro. Cioè, non può rispondere a te in questo momento. Cioè, secondo te, se io sono accusata da dieci persone di stupro, parlo con Dino Gianrusso o voglio parlare con un giudice? Ma io penso che sia la propria...